Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, qui Francesco Guarino e ci lanciamo sul tiraggio della carta della settimana, che era il 7 di denari e ci chiedeva di ragionare sul mondo degli investimenti. Sto parlando dell'investimento di energia, di risorse, di tempo, di successo, di quello che possiamo dare, cioè sto investendo nel modo giusto per raggiungere il mio futuro obiettivo, scopo, traguardo, successo. Mettici la parola che vuoi in relazione alla carta che abbiamo estratto e che, se non hai visto, ti invito a vedere l'estrazione della carta della settimana che viene fatta di lunedì, a differenza del martedì, per questioni che ho già detto nell'altro video. Facciamo un po' di sperimentazione sulle giornate. Andiamo ad estrarre la prima carta per il quesito. Ed esce fuori due di coppe. Perfetto. L'arcano chiede di fare un check-in sulle collaborazioni, sulle relazioni e sulle persone con le quali ti stai interfacciando. E forse la domanda più importante che ti puoi porre in questo momento è sono in sinergia con le persone giuste. Questo è il quesito chiave, perché spesso il successo non è questione di lavorare duro, lavorare più di tanti, più di tutti, ma di fare squadra. Di fare squadra con chi condivide la tua visione, con chi condivide i tuoi valori, ma anche con le persone che ti possono arricchire di input. E allora credo che rivedere le partnership e i progetti in cui siamo convolti, vedere se tutto questo sono allineati ai nostri obiettivi sul lungo termine, dedicare un po' di tempo a costruire delle relazioni autentiche, significa darci una possibilità di raggiungere questo successo. Chi è che ti sta sostenendo davvero nella tua cerchia e chi è invece che dovresti lasciare andare? Il secondo arcano è la forza, che ci parla di un certo tipo di forza che forse ha più a che fare con la tua fiducia interiore. Quando si tratta di investire nel tuo futuro è facile farsi prendere dalla paura o dal dubbio, perché a volte non sappiamo dove stiamo andando. L'arcano 11 però non solo apre un nuovo ciclo, ma apre un nuovo ciclo molto più coscienzioso rispetto per esempio a quello del bagatto. È un arcano che ci dice sai quello che vuoi, sai come andartelo a prendere e tutto quello che ti serve per riuscire è tirare fuori quella risolutezza e quella forza che è già dentro di te. È facile vedere come la forza, non stia guardando il 2 di coppe, quindi qua io non ti sto dicendo che devi gestire con forza queste partnership e queste relazioni, ma ti sto dicendo che queste relazioni e queste partnership debbono darti l'energia per gestire con grandissima forza questo 7 di spade, ovvero la carta guardata dalla forza. E il 7 di spade è un invito a pensare fuori dagli schemi. Se stai cercando di investire per il tuo futuro il 7 di spade ti chiede di fare attenzione a dove stai mettendo la tua energia, perché a volte distribuire le tue risorse in modo strategico risulterà più intelligente che buttarsi a capo fitto in un'unica sola direzione. Inoltre devi valutare sempre con il 7 di spade se c'è qualcosa che forse devi tenere un po' più per te, non sbandierare ai 4 venti. Forse è necessario rivedere le tue scelte, valutare dove puoi essere più strategico ma anche più furbo. Non tutte le idee che avrai nei prossimi giorni o che comunque ti accompagnano da un po' di tempo devono essere necessariamente condivise, perché a volte il vero successo viene dall'essere discreti e dal lavorare dietro le quinte. Quindi credo che mettendo insieme questi frammenti di messaggio possiamo dire che c'è un invito a investire nelle relazioni autentiche che ci permetteranno poi di gestire, di aprire un nuovo ciclo, ma di gestire anche con forza e senza paura, tutte quelle strategie e tutte quelle tecniche che ci permetteranno poi di raggiungere il successo. Sempre però con discrezione. Prendi questi messaggi, applicali alle tue decisioni quotidiane, a quello che stai vivendo, ai tuoi progetti, per darti una possibilità di costruire un futuro solido, ma anche il successo di cui il sette di denari ci parlava. E ricorda, qualora magari ti fosse un po' sfuggito, che quando io parlo di successo non intendo necessariamente denaro, anche se il seme dell'arcano della settimana erano i denari. Io parlo di connessioni, parlo di energia, parlo di resilienza. Ecco, forse hai tutto quello che serve per farcela, cerca solo di utilizzarlo meglio, con più strategia. Detto questo, come ogni settimana, ecco questo non cambia, invece ti invito a personalizzare il tiraggio, estraendo dal tuo mazzo di carte i tuoi arcani, in base al tuo metodo di lettura, in base ai tuoi significati, per lavorare su questa domanda. Potresti anche far parte delle persone che dicono, no ma guarda, mi hai chiarito già dei dubbi, perché quello che hai detto si adatta perfettamente a ciò che sto vivendo, ma io ti dico, va bene, in questo caso puoi evitare di fare un tiraggio ex novo, ma cerca almeno di guardare le carte estratte, di andare a leggere il loro significato, la loro spiegazione, la loro descrizione, per renderla ancora più tua, per avere degli spaccati di conoscenza che siano solo tuoi. Infine, se vuoi utilizzare il mio tool per un tiraggio gratuito, automatizzato con la spiegazione, qualora magari sei affascinato dal mondo del tarocco, ma non hai un mazzo di carte, non lo sai leggerlo, ti lascio nell'info box il link da cliccare, estrai sei carte, l'importante e meditare su questa domanda e ti comparirà a schermo direttamente la spiegazione. Amico mio, un grande abbraccio e ci sentiamo al prossimo video.